Buonasera, io sono Enrico Piras, faccio parte di OB Olive Oil, siamo un'azienda italo-americana, l'altra parte dell'azienda è mia moglie Caitlin, altresì conosciuta come Olive Oil Mommy su Instagram. Noi produciamo olio extravergine d'oliva da Villa Cidro, la nostra cultiva è la nera di Villa Cidro, pluripremiata a livello mondiale e noi esportiamo il nostro olio negli Stati Uniti e in tutta Europa. Noi in Sardegna e in Italia sappiamo già la bontà dei nostri prodotti, ma all'estero c'è una fame crescente di prodotti agroalimentari specialmente sardi, considerato tutto il discorso delle zone blu. Quindi se non l'avete ancora fatto vi suggerisco di vedere i nostri video e iscrivervi alla nostra pagina e comprare il nostro odio. Perfetto, oggi riceverete, si spera, un bel premio. Speriamo, speriamo di ricevere questo premio e niente, e continuiamo così, grazie.